queste sono opere c'è l'area di Ascalia cosa dice? non sono gli occhiali adeguati altre cose sempre opere la difesa dell'ambiente inizia a caso, la tavola con la scelta del cibo sostenibile il museo sottomarino e talomuolo queste sono i ritratti la massa dei pesci, la storia del paulo e il pescazone la frittata e la prima si risentano queste sono le due grazie grazie